Ehm, niente, riprendiamo. Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Rome. Andiamo a vedere questa missione tra Iulia Calida e Dea Neira. Possiamo anche non prendere bestie, scusatemi. In realtà sarebbe tra Iulia e bestia. Ma Dea Neira è, boh, deve aiutare bestia, in qualche modo. Questa è giusto che mi abbasso un pochettino. Ah, quindi non è interessata. Aspettate, sto cercando di sistemare un po'. Dovreste anche sentirmi meglio, vedermi meglio, vedete che se ne frega. Però, vabbè. Guarda, guarda come è vestita Dea Neira. Non sembra neanche lei. La vestita così della buildon, anche Iulia Calida. Ci guadagnano su quei punti. Cos'è tutto sto... Macello, qua in mezzo. Sì. Ah, ok, era un appuntamento, lei si è portata dietro Dea Neira perché non voleva andare solo. Calida è mi mostrando, questa città è grande, più grande di quello che pensavo. Abbiamo visto molti vestiti, alcuni di loro in realtà sono bianchi. Difficile da credere, ma era davvero interessata ai vestiti colorati di rosa. E' il campo di Marte, è come un posto sacro per i guerrieri. Un posto per i guerrieri, perché hai così molti di dottori? La gente è abbastanza difficoltà, i guerrieri sono peggiori. Tu pari la verità? Perchè i nostri ospiti sono soli e per questo è quello che bisogna molti di dottori. Ah, e ora cosa si sta provando? Allora, stop right there, tu stai con noi. Cosa? Por favor, non faccia questo più difficile da che bisogna essere. Che da un russo. Dovete a tutti questi Landakai? Dì mi hanno detto che sei tornato nella città. Io non lo credessi. Non so neanche qualsiasi di Dottor ti ha possesso, perché non so neanche qualsiasi di Dottor è più fulgica. Mars, ciò che è per noi qui. Ricordatevi le parole. Oddio, è il fratello di Julian? Perchè avete seguito qui? Tu sei un criminale. Tu sei un disgraccio per la nostra famiglia. Perchè di quello che hai fatto, tutti saranno infamici. Stai parlando tu o sta parlando nostro padre attraverso di te? Solo io posso parlare per la nostra famiglia ora. Quindi ora stai facendo il lavoro sporco di tuo padre? Il padre è morto. Penso che ha morto di grifo perché la sua sola donna si attrava come se fosse un uomo. Il padre è morto perché il suo unico figlio è un gattino. Il padre è solo un gattino. In realtà non mi piace giocare con uccelli e uccelli, ma almeno non mi muoce di uccidere uccidere. L'accidentità. L'accidentità. Quando ti ripresi un jugo di acqua e si scatta, questo è un accidentità. Quando ti ripresi il tuo figlio sulle stelle e si scatta il suo uccelli, beh, credo che si chiamano questo mordere. Bestia, ti presento Aulus e il mio piccolo fratellino. Ecco per arrestarmi. Forse? Per cosa? Ha ucciso un uomo. Di là effettivamente è ucciso. Mi trattava come fossi una serva. Mi ha vietato di praticare con l'arco e ha rotto l'arco che tu stesso mi hai regalato. Non mi era neanche consentito lasciare la villa senza di lui. Non mi era il tuo figlio. Si può fare qualcosa che vuole vuole e tu ancora non mi è permesso di uccidere. Non mi è permesso di uccidere. Si riefi ti, ti riempi. Segui a paura di più. Si riempi. E tu. E' un'uomo. Si riempi. Mi è permesso di ucciderare. Mi è permesso di uccidere. Grazie. La mia sista era una persona gentile e felice che sempre... E' quello... lo ha fatto, non? In risultato è sempre tu che eri giocati. Non era giusto. Ma la vita non è. Non lo devi, ora è il tuo turno di proteggermi. Molto bene. E' andata bene, è andata facile. Yulia, stai fuori di vista. Si tratta di questo molto bene. Perché si lasciava? Ma sembra che non sa come. E ci arrivasse solo quello di concludere il primo atto, quindi. Ma di qua si passa? Cosa c'è di livello qua? Si può... Ma scusate, è arrivato per barca? Ci sono arrivati con uno in imbarcazione? Al Campo Marzio? Vabbè. Vabbè, sì. Andiamo a villa semplone e andiamo a concludere l'atto primo. Sono curioso di ritornare a fare la parte Insomma un po' più di Storia Però mi sa che siamo proprio all'inizio Ancora Ok Fixato Però adesso che non duri 80 ore questa parte Abbiamo incatenato quell'episodio con questo Ah c'è De Nero Non devi stare qui a controllarsi Mi piace questa sala È calda qui E il sonno di fonte è rilassato È ottimo A volte prendo un'occhiata Non sei molto aggressiva con questo vestito rosa Non voglio impostare Non piace il vestito rosa È normale per le persone importanti a Roma Di fare quello che vogliono Ah Beh, puoi continuare a farlo se vuoi Non mi preoccupare Quindi Roma è tutto quello che ti aspettavi Bello, sì Bello, sì Ciao Ciao De Nera C'è sismo Ciao Mi trattano come una serva Come se non fossi io Ciao Ti trascorri una buona giornata De Nera Ciao 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 C'è Giulia da qualche parte Qua In giro O No Mi sa che c'è solo La nostra Mammina Le avevamo chiesto a Giulia Se voleva stare a casa nostra Ma Se andiamo qua A interagire con la scoppa Cosa succede? Scusami Se va con me Ah Posso raccogliere la scoppa Ma Perché c'era Aveva visto qualcosa Aveva visto un glitch E No, non c'è Iuria Comunque Mi sa In tutto ciò Ah No Chi c'è qua C'è il sine rosse Cosa c'è qua? Un coltello C'è il sine rosse qua Ho sentito che bestia C'è bestia Poi l'ho semplicemente Lo stesso doppiatore Sarei curioso Più che altro Se No, qua è sempre Deia Neira Se fosse Giulia Vorrei parlarci Con Giulia Perché magari c'è Qualche dialogo Che mi sto perdendo Vabbè Vabbè Buonasera E' come Dissero spostarsi In questa abitazione Che giro A 360 A 180 Finiamo il primo atto Il nostro Stato E' molto migliorato Grazie a quello Che ho ottenuto In Grecia E' tempo di Ristorare Di Ristorare La villa Ed espandere Il nostro Commercio Tra l'altro Ehm Ma è sempre di Grecia Ma è la terra Asia Quasi tutto il tempo Ah buono Lucius Salve Claudiana I wanted To arrive Sooner But we had Work to do At the Senate The villa Is legally Yours The Trinity Of rights Has been Restored As yours And yours Alone Legate E' messero Le libiano And there's Nothing We can do About that However Now that You're here I suggest You turn That Into An Advantage I don't know How we can Ever Repair You Lucius There's no Need to Repair Anything You Of all people Should know That Claudiana This was Not a Transaction Allora Cioè Quindi Effettivamente Adesso Realizzo Una cosa A cui Prima Non avevo Pensato Cioè Il fatto Che Essendo Che Scaevola È Posato Con Nostra Sorella Di Distruggere La Nostra Famiglia Vuol dire Che Tutto Il Nostro Commercio E La Nostra Eredità Sarebbe Finita Lui Perché Ci Siamo Solo Io E Noè La Sorella Per cui Poteva Essere Un piano A lungo Termine Per Acquisire Più Potere Abbiamo Ci Siamo Alleati Con La Persone Sbagliate Quando Abbiamo Mandata In Sposa Lui Quindi Non Era Una Transazione Grazie Lo Cullo Ma Comunque Cercherò Un modo Per Ripagarti Spero 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 Ma C'è Non Spero Claudiana Niente Può Lavorare La famiglia Tanto Che Spero 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 Succedono Tante cose Atto 2 Africa Ah Sono Passati Cinque Anni Aveva Ricciuto Cinque Mila Denari Per Il Vino Che Abbiamo Venduto Quindi Che Senso Aveva Farlo Tutto In Una Volta O Lentamente Tanto Infine Sì Boh Come Un Bambino C'era Un Stavo Ruotando In Un Fiume C'era C'era Dei Gatti Domestici Che Sembravano Di Fare Minida Guardia Stando Guardia Against Who Or Stop The Norton Barbarians By Their Fluffiness Forse Gli dei Mi Dicono Che Dove Stare Attento E Voi No Vabbè Non mi piace sfruttarla ma è la mia fonte primaria di informazioni sui vitelli Non ti preoccupare ho un piano In realtà non ce l'ho Non so se lui ce l'ha nel mente Beh si, ciao E' vero Ma non c'è oggi De Nero qua Accanto alla piscina Non arriva qua la piscina, dove era la piscina? C'era dopo sto parchetto interno, non lo so Ancora mica più, ah guarda che c'è De Nero Che dice? Stai bene signoros, ti sei tenuto in allenato? Ah 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 ah, tu sei sicuro Se altro, ho cresciuto un peggio più grande Ah, ok Ma dovrei visitare lo c***o, sono curioso di cosa stai aprendo Non c'è un po' di ragazza per cui non stai facendo bene Ho sentito che Nassamones è una terra di piacere Alessi, è troppo fuori Ma dove è andato Nassamones? Ma, parlando di nostri amici in piccoli paesi Potrebbe essere worth andare al Senato questa mattina Tullius Kikarou sta guardando l'interno di oggi Potresti sapere qualcosa Il prodotto di... Delle viti, insomma, il vino sta andando bene Il prodotto di vino sta andando bene Se la vuole incontrarmi oggi Ok, Weller sta prendendo buona care of her Questa, non parlata e una vera ufficiale tra le nostre famiglie È un po' di meraviglioso Ma preferisco che la vuole incontrarmi Mh Andiamo al mercato Ho un appunto dentro E posso comprare alcuni piacere mentre stiamo Ho paura che partisse poi direttore del chat Ehm, è qua per caso Ehm, sì ma non posso parlare Sì ma non posso parlare, va bene Questi uccanoni di loro indiscriminate defecazioni Ok Ehm, è un modo di dirlo molto... Aulico per quello che è Ma sono passati venti minuti perci Quindi direi che possiamo anche fermarci qua Io vi ringrazio per la visione Ci vediamo nei prossimi episodi Io vi invito, come al solito, a lasciare un mi piace Un commento, iscrivetevi per cosa non lo avete fatto Ciao a tutti Buona giornata